mi mi cerchi Savio Savio Architravo eh salvo Salvatore. Sì sì. Telefono collegato con noi Onopote Mario Trevi, Salvatore Architravo, Salvatore buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Io poi ti invito qui in studio eh per raccontare di quel personaggio che tu hai riportato diciamo a galla eh poi ne parliamo qui in studio se ti fa piacere. Ho un grandissimo piacere e onore. Eh ma ma tu eri da Renato Zero? No no purtroppo io non non c'ero personalmente però ho visto che cosa grande che ha fatto. Cioè a un certo punto lui ha elencato i nomi di tantissimi grandi napoletani no? Della storia della cultura, dell'arte, della musica. Certamente sono sono rimasto anche sorpreso da chi? Cioè perché il tipo Vittorio Parisi o Enzo Romagnoli che sono arti Mario Pasqualillo che sono artisti che diciamo sono lontani tra virgolette da noi in questo momento però sì eh mi ha fatto tanto piacere vederli la ricordate. Anche a me. E poi ovviamente la signora Sacco, la signora Doris. Cioè allora Renato Zero ha fatto uno un elenco di di grandi artisti e addirittura ha nominato Mirna Doris, Vittorio Parisi, Egno Fantastichini eh poi chi altro? Erano cinquanta artisti. Cioè Guaglio ha nominato addirittura Tonia Starita. Allora io mi domando ma deve venire un romano eh per carità per carità adottato da Napoli. Certo. Deve venire un romano a ricordare nomi importanti che questa città ha dimenticato. L'hai pensato anche tu Salvatore? Eh purtroppo l'ho pensato. Eh però dobbiamo dire grazie. Salvatore noi ci vediamo qui. Sì colgo l'occasione per fare gli auguri di novanta anni a Gloria Cristi a Michele compia oggi. Tanti auguri. Grazie Salvatore un abbraccio. Un abbraccio a voi. Grazie. Allora andiamo